Tia 99 presenta le avventure di Spider-Man, Episodio 2 Mario Cuscino, nuovo nemico, buona visione Ciao Mario, oh ciao Spider-Man, che fai? Niente, faccio una bella passeggiata Io vado, va bene Spider-Man, buona passeggiata, grazie Mario Tra la la la, chi sei tu? Io sono Mario, Mario Cuscino e tu? Io sono Spider-Man Spider-Man? Ah, tu sei l'uomo, l'uomo ragno Che stai facendo? Niente, faccio una bella passeggiata Mi fai passare? Sono un supereroe? Mi dispiace, uomo, uomo ragno Non ti faccio passare, ah 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 Smetti a diridere, Mario Cuscino Fammi, fammi, fammi fare una bella passeggiata Sono un supereroe Mi dispiace Ormai non ti lascio passare Ora ti asmo, te è in oscuro Spider-Man Non credo proprio Mario Cuscino malvagio Ti sconfiggero una volta per tutte E via Mi dispiace Mi dispiace Spider-Man Non mi hai fatto niente Lo so che non ti ho fatto niente Prendi questo Ragnatela Ora basta Mario, Mario Cuscino Ti sconfiggero una volta per tutte Io sono di nuovo l'eroe L'uomo ragno Finale Psss Draw 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 Evviva Ce l'ho fatta Ho sconfitto Mario Cuscino Vado Torno a casa dei fratelli Mario Mario Sono tornato Spider-Man Ma dov'eri? Sono Stavo facendo una passeggiata Ho incontrato Mario Cuscino Che io Che io Che io conosco Hai incontrato Mario Cuscino Questo maledetto Un'altra volta E si Mario Però ce l'ho fatta Sconfiggerlo E sono stato proprio un eroe E quindi resto con voi Ok Perché no Finalmente Ok ragazzi Ok ragazzi Queste sono le avventure Di Spider-Man Episodio 2 Mario Cuscino Nuovo nemico Ci vediamo Alla prossima Puntata Ciao Ciao